Infante Calzature e Pelletterie Ben ritrovati con le informazioni di 7TV anche questa mattina alla nostra edicola con uno sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali. Allora, davverosa la presentazione, oggi abbiamo ben due ospiti all'interno della nostra rassegna stampa. Allora, al mio fianco Francesco Magliese, Assessore Comunale di Vallo della Lucania, le deleghe ce le elencherà lui tra qualche istante perché gli sono state assegnate qualche giorno fa dal sindaco di Vallo della Lucania e poi qui con noi anche Giuseppina Russo, presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia, che in questi giorni si sta svolgendo da Pestum fino a Vallo della Lucania, anche in altri comuni cilentani, ma parleremo di questo appuntamento tra qualche istante. Allora, Assessore, da qualche giorno il sindaco Tony Aloia le ha assegnato le deleghe, la nomina è venuta più di un mese fa se non sbaglio. 11 gennaio. 11 gennaio, però la scorsa settimana sono arrivate le deleghe, ovvero di quali deleghe parliamo? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te Carmela, la mia amica Pina e tutti i telespettatori. Mi sono state assegnate le deleghe agli affari generali, al personale, al patrimonio, alle politiche giovanili, al turismo e alle politiche agricole. Qui un bel po' di lavoro da fare. Hai iniziato subito dando accoglienza a questi ragazzi che provengono non solo dalla Campania, ma anche da altre regioni, da 15 regioni. Parliamo dei protagonisti del Festival della Filosofia in Magna Grecia. Giunto quest'anno l'evento, sono ben dieci anni che voi venite nel Cilento. Di che cosa parliamo? Parliamo naturalmente, partiamo quindi dal genius loci, da questo spirito del luogo che ha dato il là ben 2500 anni fa a una scuola filosofica. La scuola filosofica eleatica è il nostro punto di forza. Da qui siamo partiti proprio perché i ragazzi potessero continuare a dissertare di filosofia nei luoghi della filosofia. Il nostro è un festival che ha una spiccata connotazione sociale. Cioè che cosa fanno i ragazzi in questa loro permanenza nel Cilento? Un'esperienza filosofica, quindi nei luoghi della filosofia vivono il momento, il legame con un luogo importante e qui partono al mattino con le passeggiate filosofico-teatrali in questo splendido luogo simbolo che è l'area archeologica di Velia dove appunto Parmenide e Zenone passeggiavano. e lì tra guide archeologiche e attori si realizza end upment, cioè si passa quindi da un site monument approach a un experience approach. Quindi passano dalla filosofia, dei testi scolastici... Non solo dal monumento sacro che quindi vedi in quest'area archeologica, vedi anche, vivi l'esperienza con gli attori, con le guide. E quindi c'è questo Parmenide, Zenone, Socrate che nell'area archeologica le figlie del sole accolgono i ragazzi. Quindi il sogno di Parmenide, i frammenti di Parmenide si realizzano attraverso la passeggiata filosofico-teatrale. Quest'anno il tema è Gnotis Auton, conosci te stesso, che è il monito appunto della filosofia. Socrate è il simbolo di questa conoscenza che è un tendere alla ricerca dell'uomo nella sua interiorità. Quindi è questa la forza della filosofia. Noi siamo inseriti all'interno del forum delle culture per il Cilento. Nell'ambito di questo progetto scientifico che è la via dell'essere, il nostro è l'evento trainante. È l'evento che da anni in Cilento sono circa 10.000 i ragazzi che hanno accolto la nostra iniziativa e che da tutta Italia, numerosissimi, vengono per vivere questa esperienza. Abbiamo avuto anche filosofi stranieri, Richard Precht e il filosofo Yamme, che ieri hanno tenuto una lezione splendida sulla morale e sul ruolo della filosofia nella società contemporanea. Anche Vallo della Lucania, protagonista di questo evento, ci sono tanti ragazzi che in questi giorni li vediamo tra Piazza Vittoria Emanuele e altri luoghi simboli della città. Avete subito deciso anche, mi sono notato già dallo scorso anno, sono già due anni di sposare quel progetto del Presidente Russo. Sì, abbiamo sposato questa iniziativa che ci è stata proposta dalla dottoressa Russo, che ci ha proposto questo evento bellissimo, che devo dire la verità stavamo per perdere, il nostro territorio stava per perdere un progetto così significativo dal punto di vista non solo turistico, ma soprattutto, dico io, culturale. È nata questa bella collaborazione insieme a Pina, l'obiettivo è quello di istituzionalizzare questo evento nel nostro territorio, attraverso un protocollo di indesa che da qui a breve proporremo alla società che organizza questo evento. Perché? Perché il nostro territorio, grazie a questo evento, sta avendo un riconoscimento non solo a livello regionale, ma nazionale. Proprio ieri ho avuto una telefonata dalla Toscana, che ha visto sul social network Facebook le foto della nostra città, grazie a questi ragazzi che provenivano, se non sbaglio era una scuola di Bagnara Calabra, che avevano enfatizzato, avevano enfatizzato molto il nostro territorio, che gli stava piacendo, si stavano divertendo, e stavano vivendo un'esperienza unica nel suo genere. Allora, torneremo sul festival della filosofia tra qualche istante, iniziamo intanto a dare uno sguardo anche ai giornali di oggi. Allora, la città in primo piano, Salerno differenziata impicchiata, si parla quindi di raccolta differenziata, in un anno sono stati perti altri 4,4 punti, ora è quota 64,21, cioè al di sotto della media nazionale. La contrazione dei consumi incide dunque sul dato, in città le famiglie separano meno i rifiuti. La fotonews aumentano i canoni, i lidi sono già in ginocchio prima di aprile. Il raddoppio dell'addizionale regionale fa scattare dunque l'aumento dei canoni per i lidi balneari della provincia di Salerno, gli esercenti di fatto sono già in ginocchio, prima ancora dell'apertura per la stagione estiva. Triplicati i costi nei comuni inseriti nella prima fascia, il consorzio presenta un ricorso al Tar. Poi salta l'autopsia sul carabiniere, cava dei tirreni, salma congelata, rabbia ed esposto dei familiari. Nel Cilento sarà Troiano il commissario del parco, ieri è arrivato il decreto di nomina, all'enteparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il commissariamento prevede una durata di sei mesi, però è chiaro che potrà essere interrotto nel momento in cui dal ministro arriverà il nome del nuovo presidente. Intanto ricordiamo che oggi il ministro Galletti farà un tour salernitano con tappa anche a Pollica, dove sarà accolto dal sindaco Stefano Pisani. Ma andiamo avanti. Serre inaugurati, i mega impianti fotovoltaici, a Camerota 13enne sparita e rintracciata in Piemonte. Poi falsi dossier, telefonate di Verdini sul processo sulla P3, Università, infiltrazioni d'acqua, chiusa la biblioteca. Lo sport salernitana, gesto bellissimo, Marisa Di Bartolomei, ringrazia la società per l'iniziativa, quindi ci riguarda un po' da vicino, perché Di Bartolomei, se non sbaglio era originario, veniva in vacanza a San Marco di Castellabate. Era originario di San Marco di Castellabate. Poi Napoli, Reina vuole restare, trattativa con il Liverpool, direttanti, tabellini e commercianti nell'ultima giornata. Allora, torniamo con l'assessore Francesco Maiese. Lei è assessora, lo diceva, dall'11 gennaio, ormai la storia la conosciamo tutti benissimo, dopo la revoca dell'assessore Pietro Miraldi, il sindaco Tonio Loi ha provveduto a nominare lei assessore, le sono state assegnate diverse deleghe, lei già lavorava però di fatto, ecco, all'interno dell'amministrazione comunale. La nomina di assessore le dà un incentivo in più a fare ecco di più o comunque lei continua il lavoro che di fatto già svolgeva prima? No, guarda Carmela, per me la nomina di assessore è soltanto un titolo in più, un riconoscimento che ha voluto darmi il sindaco, che io ringrazio pubblicamente da questa emittenza. Sicuramente il mio impegno rimane uguale, da consigliere d'assessore penso che un po' tutti i cittadini me lo riconoscono, la presenza costante sul comune, l'impegno che prendo con i cittadini quotidianamente. Le deleghe che mi ha segnato il sindaco sono delle deleghe importantissime, che non fanno altro che riempirmi di responsabilità, soprattutto perché la delega al personale, insisto sul personale perché oggi, essendo parecchie lamentele da parte dei cittadini, che si è creata quasi una frattura fra il personale del comune di Vallo della Lucania e fra i nostri cittadini. Beh, questa frattura va interrotta innanzitutto perché sono delle persone che quotidianamente lavorano con impegno, però sono sotto organico, e questo lo voglio sottolineare, perché noi in questi anni abbiamo avuto dei pensionamenti, purtroppo abbiamo avuto una cara persona che è venuta a mancare improvvisamente e non sono state sostituite queste persone perché la legge ce lo impone perché abbiamo dei limiti e non si possono fare nuove assunzioni quando si superano alcuni limiti sulla spesa del personale. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di fare un piano triennale di nuove assunzioni, perché anche in futuro, da qui a breve, avremo dei nuovi pensionamenti. Il comune di Vallo della Lucania sicuramente ha bisogno di una riorganizzazione. Che vuol dire? Oggi attualmente, come... Il comune lei intende come ufficio all'interno, proprio a livello amministrativo. Dobbiamo razionalizzare e ottimizzare le risorse umane. Che significa? Dobbiamo innanzitutto fare un accorpamento delle competenze, perché ci sono troppi uffici e i cittadini sono disorientati. Che vuol dire? Un comune come Agropoli, faccio un esempio per spiegarmi meglio, un comune come Agropoli che ha 24 mila abitanti, ha soltanto quattro aree organizzative. Il comune di Vallo ne è a 6, con una spesa di indennità di funzione che va oltre 100 mila euro, mentre Agropoli ne spende 30 mila. E non penso che in questo momento ci sia un miglior servizio dato ai nostri cittadini, nonostante tutte queste aree organizzative. Sicuramente il primo obiettivo sarà quello di riorganizzare e di ridurre le aree organizzative. Questo è un primo impegno che porterò avanti con forza. Allora, abbiamo un bel assessore, giovane, deciso. Ecco, allora, torniamo al festival responsabile. Che sa dare risposte concrete. Speriamo di darne qualcuna all'interno di questa nostra segna sala, perché ci sono delle risposte da dare. Intanto torniamo sul festival della filosofia in Magna Grecia. Lei, ecco, ha iniziato questa avventura, possiamo dirlo, dieci anni fa, la creatura sta crescendo, ci sono tante novità di anno in anno. Che cosa le dà più soddisfazione al termine di ogni edizione? Al termine di ogni edizione, al di là del riconoscimento anche dei docenti e del territorio, perché il territorio ci riconosce come evento portante. Questa edizione è iniziata il 7 e si concluderà? Il 7 si conclude l'11. Abbiamo aperto ai templi di Pestum, chiuderemo ai templi di Pestum e anche quest'anno è la prima volta che abbiamo creato una relazione proprio alle porte del Cilento, quindi anche con il sindaco Voza e con l'istituzione Poseidonia, con il presidente Cerullo. Per cui anche lì siamo riusciti a creare sinergie operative e quindi questa collaborazione che si attiva sull'intero territorio. Il nostro è stato da subito un evento di marketing territoriale per cui esaltare questo giacimento di meraviglie che è il Cilento era il principale obiettivo sul piano culturale, turistico e quindi creare un valore aggiunto a tutto quello che già esiste. Il riconoscimento ci è venuto dal presidente della Repubblica che già nel 2012 ci ha inviato una splendida medaglia e poi a seguire negli anni c'è la sua adesione per cui io ringrazio l'attenzione appunto del presidente napolitano nei nostri confronti perché questo sud ha bisogno di essere quasi sempre di riscattarsi anche da questo punto di vista, cioè la cultura che è la figlia della Magna Grecia, del sud Italia che finalmente viene visto dal resto d'Italia, vissuto dal resto d'Italia. Noi abbiamo i Trentini che continuano a venire numerosissimi da anni e quindi dal Trentino fino alla Sicilia noi che riusciamo ad esaltare bellezze che altri forse meglio di noi ci tentano. Lei è napoletana, campana? Io sono napoletana, ho vissuto sette anni a Sapri per cui ho anche abbracciato, ma comunque dall'età di cinque anni vengo in vacanza ad Ascea per cui questo è il luogo della mia infanzia. Ecco, li vediamo i ragazzi, i protagonisti di questa avventura. Sì, splendidi e loro sono coloro che ci riconoscono la forza di questa iniziativa. Noi riceviamo costantemente sia dai docenti, dai genitori, dagli stessi ragazzi ma delle lettere sono attestate di stima, di forza che ci hanno sempre dato il là per continuare ad operare. In particolare ricordo queste lettere dei ragazzi di Centola nel 2008 che ci scrissero cose meravigliose e in quell'anno che sarebbe stato l'anno veramente dello start-up e quindi l'anno delle difficoltà iniziali quella lettera ha segnato per me la differenza per cui il riconoscimento dei ragazzi è il nostro punto di forza. desidero ringraziare i sindaci, i sindaci che... Ecco, quali altri comuni oltre Vallo la stanno aspettando? Sì, Vallo quindi il sindaco Aloia e naturalmente Francesco Maiese ma il sindaco di Castelnuovo Cilento e Ros Lamaida dove in questi giorni c'è una passeggiata filosofica che è appunto io l'universo. Il sindaco anche di Casalvelino, il sindaco Giordano Domenico Giordano e il sindaco Voza naturalmente Il sindaco di Capaccio Pestum dove chiuderemo il giorno 11 e lì ci sarà un anno Sì, domani Sembra che stai, siamo già alla chiusura siamo le ultime ore Che è il momento corale che chiude il festival perché questo momento esperenziale di questi giorni i ragazzi seguono un percorso di stagio all'interno di una serie di laboratori di filosofia pratica oltre ai dialoghi filosofici ci sono i momenti di filosofia pratica e lì vede le immagini di Velia meravigliose e queste girano l'Italia ovviamente queste immagini ma vanno anche in Germania in questo momento questo è Parmenide ci sono una serie di... queste sono le passeggiate filosofico-teatrali che sono sempre suggestive va bene, queste sono aree anche un po' più lontane da noi perché il festival dall'anno scorso è anche diventato itinerante cioè la Magna Grecia ci ha cominciato ad accogliere e queste erano immagini di Salento e ad ottobre saremo anche a metapunto il Cilento resta il nostro avamposto non lo lasceremo, non temete perché anche dopo l'appoggio del sindaco Aloia e del comune di Vallo noi abbiamo deciso di rimanere in Cilento per cui continuiamo quest'opera di attrazione e siamo convinti che il Cilento debba continuare ad ascoltare queste iniziative e ad accoglierle perché è necessario parlando di Cilento allora ci dà spunto anche questa pagina interna della città parliamo di Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albune questo è un momento delicato eccoci da rinnovare la carica di Presidente tutto il Consiglio Direttivo ebbene è ufficiale Amilcare Troiano sarà Commissario l'abbiamo già visto per i prossimi sei mesi dunque l'incarico durerà fino alla nomina del Presidente al massimo per sei mesi l'ha deciso il Ministro dell'Ambiente che oggi sarà a Battipaia, Eboli e Acciaroli allora le altre notizie sulla città di sfrutto sanitario ci trasferiamo dunque nel Vallo di Diano spostato dall'Ausl Sala Consilina ricorre alla Tarre poi Atena Lucana cronaca con la pistola minaccia un uomo arrestato 67enne San Giovanni Appiro, Abuse di Lizzi Movimento 5 Stelle e PD sciogliere il Consiglio oltre 2 milioni per la discarica fondi della regione per la bonifica dell'area in località Margiotta di Santa Marina Teggiano, la moglie ingannata scrive a Napolitano questa storia che è stata portata alla luce dalla trasmissione Rai la vita in diretta ebbene Agnese Di Sarvi l'infermiera 47enne di Teggiano vittima dell'ex marito che la indusse a sposarlo e a prestargli una grossa somma di danaro spacciandosi per un alto funzionario della polizia ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per l'annullamento del matrimonio accade anche in questo si sposa un uomo e non si sa a che cosa si va incontro ma torniamo con l'assessore Francesco Maiese allora lei qualche giorno fa ha voluto dire la sua su due importanti iniziative che vedranno protagonista proprio la città di Vallo della Lucania ovvero il primo salone della dieta mediterranea in programma ad ottobre se non sbaglio e poi la realizzazione di un marchio per i prodotti del nostro comune Sì allora il 17, il 18 e il 19 ottobre alle fiere di Vallo della Lucania è stato istituito con la delibera 137 del 2012 il primo salone internazionale della dieta mediterranea questo è una cosa un evento importantissimo per la nostra città e non solo ma per l'intero territorio cilentano tutto ciò nasce perché all'epoca della visita di Michelle Obama a Napoli devi sapere Carmela c'è un retroscena sì c'è tutto un retroscena dietro a questa cosa perché la moglie del presidente Obama si occupa molto di alimentazione ha un suo orto è un appassionato nella visita a Napoli che ha avuto con il sindaco dei magistri e con Caldoro soprattutto ha parlato molto della dieta mediterranea e i napoletani hanno cercato non me ne voglia la mia amica Rina hanno cercato hanno cercato di quasi di scipparci il salone internazionale della dieta mediterranea questo noi non lo potevamo perpittere e allora abbiamo istituito da subito il primo salone della dieta mediterranea il nostro ente fiere che abbiamo qui a Vallo che è un posto espositivo bellissimo che tutti ci invidiano e soprattutto grazie ai consiglieri regionali perché lo voglio dire perché c'è stato anche un impegno dell'onorevole Cobbellis di Fortunato del presidente Caldoro tramite l'EPT abbiamo avuto il primo finanziamento per il primo salone internazionale adesso anche l'assessore sommese si è impegnato l'assessore al turismo l'assessore al turismo regionale stiamo cercando di istituzionalizzare anche questo evento che sarà sicuramente un evento che darà una riconoscenza a livello internazionale al nostro territorio che noi non potevamo permetterci di perdere quindi l'evento ora in programmazione c'è la macchina organizzativa che sta lavorando fra poco ci sarà un tavolo organizzativo auspico a breve insieme all'EPT alla Regione Campania al Parco Nazionale del Cilento e al Comune di Vallo della Lucania che è la città che ospiterà questa cosa ecco se avete un'immagine della conferenza stampa ci sono molti aspettativi sicuramente non sarà un mercatino così non sarà un mercatino così senza non togliere i mercatini però l'evento ecco si prefigge un obiettivo ben più importante quello sicuramente di dare visibilità alla dieta mediterranea di valorizzarla ulteriormente ma anche di dare ecco un ritorno anche dal punto di vista turistico a questo territorio soprattutto per promuoverlo e per valorizzarlo la parola dieta deriva dall'etimo greco che significa stile di vita noi dobbiamo promuovere il nostro stile di vita che è unico al mondo e questo è un obiettivo che questa amministrazione porta avanti con impegno e con forza e nel quadro di queste iniziative di valorizzazione di tradizione di cultura noi abbiamo voluto istituire da subito la DECOV che è la denominazione comunale ballese che ha l'obiettivo innanzitutto quello di di promuovere i piccoli produttori locali e qualcuno dice ma a Vallo quali prodotti ci sono che vanno valorizzati non è vero abbiamo una zona agricola anche se ce ne fosse uno comunque meriterebbe attenzione sicuramente però la DECOV è un marchio che si riferisce non solo ai prodotti agricoli ma anche a quelli artigianali si può riferire anche ad un evento che viene svolto tradizionalmente a Vallo della Lucania è un marchio che identifichi la qualità di un qualcosa che viene fatto nel nostro territorio e che dà una garanzia al consumatore e alle persone di genuinità di tradizione di cultura di modalità di preparazione che verranno naturalmente codificate in un disciplinare che poi il Comune insieme alle associazioni di categorie farà Perdonami questa parecchia abbiamo un po' la brutta abitudine noi tutti facciamo anche un po' di autocritica di dire non si fa nulla non si fa nulla proprio al momento in cui si presenta un evento al Festival della Psicofia in Magna Grecia al Salone della Dita Mediterranea al Marchio e dice ma che ci serve? Allora non si cerca di ecco cogliere quello che è di positivo può esserci in ogni piccola ma grande iniziativa non lasciamo neanche il tempo che l'iniziativa parta si realizzi si concretizzi che subito cerchiamo di buttarla un po' nel cestino perché secondo te tu sei un giovane un giovane cilentano un giovane amministratore perché c'è questa tendenza secondo te? Io non lo so perché mi hai fatto questa domanda sinceramente probabilmente avrei letto qualche polemica io non ne sono al corrente io non penso queste sono iniziative che noi che noi vogliamo portare avanti proprio per uno scopo ben preciso quello di di promuovere la nostra città e il nostro territorio se di fronte a queste iniziative ci sono delle critiche io finora non le ho sentite no lo so non le ho lette però non le ho sentite però ecco conoscendo un po' le abitudini locali gioco d'anticipo ecco è preventiva questa domanda andiamo avanti andiamo avanti allora la pagina di Agropoli Capaccio piano di zona l'opposizione ora chiede commissione di indagine piano di zona di valore abbiamo parlato ieri con l'assessore Attilio Molinaro iniziativa di quattro consiglieri di minoranza dunque su conti e gestione della struttura fare luce su rendiconti mancati eventuali omissioni a finanziamenti e finanziamenti a rischio distretto sanitario e polemica sui tagli e le liste di attesa Agropoli contenziosi tra due vigili e il comune sempre ad Agropoli lavori del gas in una strada chiesti i danni Rocca d'aspide depuratore respinto al ricorso sui fonti ad Agropoli alghe alla marina avviata la bonifica poi c'è tanto sport sulla città ma noi andiamo avanti iniziamo a sfogliare anche il mattino di Salerno bus 5 milioni d'ossigeno la pronuncia riguarda il contenzioso sul costo al chilometro del servizio una svolta e per il consorzio e per gli utenti primo sì dunque della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al rimborso del CSTP dovuto per gli anni 1997-2002 poi anche qui i rincari stangata sui lidi scatta la rivolta dei balneatori le elezioni si parla dei europei Valzer dunque Petrone candidata e Picarone spera per questo per quanto riguarda il PD l'assessore prenderebbe il suo posto in regione ma la fotonews è dedicata all'arrivo di Galletti il ministro che in una intervista rilasciata al mattino tiene a precisare Cilento basta con gli scempi arriva oggi il ministro dell'ambiente un tour intensivo in provincia di Salerno da Battipaia giù fino a Polli che poi di nuovo su a Eboli sarà un'altra giornata piena e annuncia un patto per il Cilento basta con gli scempi e con lo spreco di risorse beh lo diciamo anche noi da un po' di tempo ma andiamo avanti gang usura Battipaia scoperti gli insospettabili intreccio con il clan De Feo vittime anche un medico commercianti e un costruttore il caso Salma Congelata rinviata all'autopsia per il carabiniere che si è tolto la vita qualche giorno fa poi c'è una polemica che viene fuori dallo spot che Kevin Costner ha girato in costiera amalfitana per una nota noto marchio di tonno ebbene spunta un faro come esca per il tonno ecco nello spot si vede un faro che di fatto è stato realizzato al computer ma che in realtà non esiste in costiera amalfitana allora iniziamo a dare uno sguardo anche alle pagine interne intanto ci avviamo a chiusura della rassegna stampa quindi iniziamo a salutare anche Giuseppina Russo presidente del festival della filosofia lei quindi domani terrà questa cerimonia di chiusura qual è il messaggio che attraverso i ragazzi protagonisti ecco vuole lasciare al territorio cilentano il messaggio è che noi ci siamo mosti da subito in un'ottica di sostenibilità intendo dire che la sostenibilità è proprio anche far riconoscere agli abitanti di questo territorio il valore di questo territorio quindi attraverso anche questa iniziativa al di là del valore economico che resta sul territorio noi abbiamo cercato di risvegliare questo senso di orgoglio di appartenenza a un territorio che ha generato tutto questo questo è il messaggio che noi lasciamo al territorio e che alla decima edizione ci possiamo consentire anche di di trasferire in modo anche solenne voglio anche aggiungere che rispetto sempre nell'ottica della sostenibilità anche noi promuoviamo la dieta mediterranea per i nostri ragazzi quando vengono nei villaggi trovano un menù di età cilentana perché anche questo è importante trasferire cioè il territorio di quanti ragazzi parliamo l'abbiamo detto in apertura di quanti ragazzi parliamo in questa edizione sono circa 900 900 che in questo momento vengono ospitati dalle strutture turistiche quindi voglio dire un momento anche di destagionalizzazione per sì come ad ottobre noi facciamo due edizioni una ad ottobre e una ad aprile perché le richieste sono numerosissime abbiamo bisogno di tanto spazio per accogliere i nostri ragazzi e di fatti siamo sempre qui speranzosi che anche strutture più ampie possano accoglierci e che si chiudano lavori anche su questi anche qui a Vallo perché i nostri ragazzi sono sempre più numerosi e noi proprio perché l'evento ha successo ha successo noi organizzatori siamo sempre attentissimi alle loro esigenze quindi rispondiamo ai bisogni sia dei docenti sia delle scuole dei presidi ma soprattutto dei ragazzi e quindi nel rispondere a questi bisogni dobbiamo saper offrire al meglio quello che il territorio può offrire grazie allora torniamo per qualche istante al nostro ministro il ministro dell'ambiente che oggi sarà a Polli che ha rilasciato come dicevamo un'ampia intervista leggevano giunque qualche passaggio la domanda ministro arriva in una terra bella e difficile benedetta dalla natura ma funestata da emergenza e problemi chiede Alessio Fanuzzi al al ministro perché ha scelto Salerno e il Cilento dice il ministro non c'è un solo motivo ne conosco almeno tre prima di ogni cosa vengo a rendere omaggio a un sindaco che è stato barbaramente assassinato quindi ricordo al sindaco di Polli Cangelo Vassallo e che merita di essere ricordato anche per quello che ha fatto in campo ambientale per le tante battaglie che ha combattuto in vita Vassallo è e resta un simbolo della buona politica poi lo scopo della mia venuta in campagna è proprio questo dice sono stato in quell'altra parte della regione quella interessata dalla terra dei fuochi e adesso vengo a rendermi conto di persona delle problematiche che aree colpite dal dissesto idrogeologico è segno che il ministro dell'ambiente non sta solo a Roma chiuso nella sua stanza ma è vicino ai problemi della gente e della campagna il cilento è in ginocchio dal punto di vista della viabilità l'estate alle porte gli operatori balneari sono pronti a manifestare il ministro risponde conosco bene la situazione innanzitutto le posso dire che stiamo lavorando per dare alle autorità locali gli strumenti operativi per spendere meglio le risorse che già ci sono poi la lunga intervista va avanti intanto però torniamo per qualche istante al parco caso Troiano dunque adesso è ufficiale Troiano sarà commissario diamo uno sguardo alle pagine interne del mattino per quanto riguarda il territorio a sud di Salerno c'è Sapri con questo caso ausiliare traffico il PM dice processate d'Agostino l'ex sindaco sotto accusa insieme ai quattro assunti e allora capo dei vigili quindi rischia il processo l'ex sindaco Vito D'Agostino ha dato una lucana lo minaccia con la pistola dammi soldi o la casa a Camerota è stata l'abbiamo già visto ritrovata la tredicenne era con un altro romeno quindi una fuitina d'amore per questa tredicenne scomparta da qualche giorno da Camerota allora Assessore Maiese siamo in chiusura di questa nostra rassegna stampa io le voglio fare questa domanda abbiamo ancora poco tempo però gliela voglio fare diciamo che questo passaggio tra Miraldi e lei non è stato proprio come dire sereno c'è stata qualche nota polemica queste polemiche però vogliamo anche dare una risposta perché secondo lei la decisione del sindaco Tony Aloia che ormai ecco come dire è stata già assorbita dalla comunità Vallese ha suscitato inizialmente qualche nota polemica sapevo che mi avresti fatto questa domanda ecco me la sono conservata in chiusura allora io con l'assessore Miraldi non ho avuto mai nessun problema probabilmente il sindaco si è trovato costretto a prendere questa decisione perché da diverso tempo l'assessore Miraldi andava un po' contro quelle che erano le scelte dell'interamministrazione non solo quella inerente la piazza Vittorio Emanuele ma anche altre scelte quindi quando si incomincia a votare contro in giunta io penso che che è stato l'assessore Miraldi ad auto escludersi non è stato il sindaco a defenestrare Pietro a me dispiace perché è un ottimo ragazzo è una brava persona è un ragazzo intelligente è un ottimo professionista sicuramente noi come amministrazione abbiamo perso tanto però penso che anche Pietro abbia perso un gruppo con cui lavorare per il futuro e sicuramente che potrà potrà ottenere degli ottimi risultati per la nostra città ci fermiamo qui allora su queste parole dell'assessore Maiese ci fermiamo qui è tutto per la rassegna stampa odierna allora grazie all'assessore Francesco Maiese buon lavoro a Giuseppina Russo presidente del festival della filosofia in Magna Grecia un auguro a tutti questi ragazzi che stanno partecipando alla festival allora grazie a voi tutti per averci seguito la rassegna stampa di oggi termina qui ma tra qualche istante nuova edizione del TG7 grazie arrivederci questo programma è stato offerto da Infante calzature e pelletterie a Valo della Lucania in via Angelo Rubino e ad Agropoli in via Pio 1070 Infante calzature